Senatore Francesco Castiello, l'autonomia differenziata ha messo il turbo e questo provvedimento sta andando avanti speditamente. Io ho molti dubbi sotto il profilo della Costituzionalità, perché noi dobbiamo partire da un presupposto che l'articolo 117, primo comma della Costituzione, sengisce un principio fondamentale regolatore della gerarchia delle fondi normative e colloca in posizione di supremazia il diritto comunitario, il diritto europeo, rispetto al quale la legislazione nazionale è di grado inferiore. Il che significa che il legislatore nazionale deve osservare i principi fondamentali del diritto comunitario. Pena l'ingostituzionalità della legge. Detto questo, noi dobbiamo partire da una considerazione, che è l'articolo 174 del Trattato dell'Unione Europea stabilisce che è compito, quindi potere, dovere della Unione Europea, rimuovere i divari territoriali. Allora, se una legge, anziché rimuovere i divari territoriali, li aggrava, ma già il mantenerli irrisolti significa contravvenire al Trattato. Se li aggrava poi ha maggior ragione. Quindi, partendo dalle cornici normative di diritto costituzionale e di diritto comunitario, io dico che come si sta sviluppando l'apparato normativo che disciplina l'autonomia differenziata è un percorso di marcia, secondo me, in rotta di collisione con il Trattato dell'Unione Europea e con la Costituzione italiana, che poi dice la stessa cosa. E vale a dire, occorre rimuovere i divari territoriali. Tutto ciò che aggrava i divari territoriali, o comunque non li rimuove, è incostituzionale. Questo è il mio punto di vista. Qual è il rischio per il Sud e le isole? Ma il rischio è questo che, faccio un esempio, se si agisce in un modo tale da non creare prima i famosi LEP, stabilire questi e finanziare l'eliminazione dei divari, i divari tendono naturalmente ad aggravarsi. Vale a dire, le regioni ricche saranno sempre più ricche, e le regioni meno ricche saranno sempre meno ricche. E questo in termini di servizi pubblici e di prestazioni. Questo è quindi tanto quanto si può osservare. Quindi io condivido le apprezzioni dei governatori delle otto regioni meridionali che vedono da questa regge aggravarsi, o la prospettiva, di divaricarsi dalla forbice tra nord e sud. Anziché questa forbice chiudersi, tende purtroppo a divaricarsi. Ma, ripeto, alla prima occasione poi, la Corte Costituzionale non mancherà di usare la mannaia, perché se questa legge o altre leggi, anziché ridurre il divari, anziché chiudere la forbice, l'allargano, sono leggi destinate alla censura di incostituzionalità.